Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Avendo completato la prima X, adesso andiamo a completare la seconda. 129.700 di power. Voglio provare ad utilizzare lo stesso team, dato che il nostro team come power ha 122.000, quindi siamo leggermente più bassi, però speriamo di riuscire a concludere comunque qualcosa. Vediamo se il team che abbiamo utilizzato poco fa può effettivamente darci soddisfazioni anche in questo stage. Quindi incrociamo le dita e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.